Però bisogna ammetterlo, quando uno gioca col fuoco prima o poi si brucia. Che vuoi dire? Che non si va a fare un massaggio ai piedi alla nuova moglie di Marcello Suolas. Secondo te non ha esagerato? Beh, Antoine probabilmente non si aspettava che lui reagisse come ha fatto, ma doveva pur aspettarsi una reazione. Ma era un massaggio ai piedi, non è niente, io lo faccio sempre a mia madre. No, è mettere le mani in modo intimo sulla nuova moglie di Marcello Suolas. Sì, voglio dire, è così grave come se gliel'avesse leccata? No. Ma è lo stesso fottuto campo da gioco. Oh, aspetta, fermo lì. Leccargliela a una troia e farle un massaggio ai piedi non è esattamente la stessa cosa. No, lo è, ma è lo stesso campo da gioco. Non è neanche lo stesso campo da gioco, cazzo. Ora senti, forse il tuo metodo di massaggio è diverso dal mio, ma sai, roccare i piedi di sua moglie e infilare la lingua nel più sacro dei suoi buchi non è lo stesso fottuto campo da gioco, non è lo stesso campionato e non è nemmeno lo stesso sport. Guarda, il massaggio ai piedi non significa un cazzo. Ma tu l'hai mai fatto un massaggio ai piedi? Non venirmi a parlare di massaggio ai piedi perché io sono un maestro di piedi massaggiati. E ne hai fatti molti? Cazzo, ha una tecnica che leva di niente solletico, niente di niente. Ah, a una moglie lo faresti un massaggio ai piedi? Vaffanculo. L'hai fatto a molti? Vaffanculo. Sai, mi sento un po' stanco, mi farebbe bene un massaggino ai piedi. Basta, hai capito? Cominciano a tirarmi le pali. Basta, hai capito?